Registro questo video dove le protagoniste siete voi, persone straordinarie che sanno supportare altre persone, perché non è scontato. Io per questo primo traguardo voglio festeggiarvi, in un anno e mezzo non è poco, perché le 10.000 persone siete voi e non io. Grazie, grazie a mio marito che mi sopporta e mi supporta. Grazie ai miei figli e ai miei genitori che hanno fiducia nella persona che sono. Grazie ad ognuno di voi per essere com'è e apprezzarmi per quella che sono. Vi abbraccio, Federica, la donna qualunque. Ciao a tutti, 10.000 ce l'ho fatta, i miei primi 10.000 iscritti, sono veramente emozionata. Io vi ringrazio davvero del supporto che mi date ogni giorno su YouTube e su Instagram, dove per me è veramente fondamentale, perché appunto per andare avanti ho bisogno di supporto. Io vi ringrazio infinitamente. Questo video sarà strutturato in questo modo. Vi lascerò a una piccola raccolta di immagini che vi rappresentano, perché rappresentano voi. Vi ho dato la possibilità di mandarmi una vostra foto. Volevo condividerla all'interno del video, perché fate parte di quelle 10.000 persone e quindi volevo festeggiarvi, perché siete voi 10.000 appunto, non io. Quindi vi lascio a queste immagini e ci ritroveremo dopo questo piccolo percorso, diciamo step by step, che spero vi piaccia. E vi farò vedere un pacchettino, ho pensato di preparare un piccolo pacchettino da donare a una di voi. Sapete che io vorrei mandare tutto a tutte, però non ho questa possibilità. E ogni tanto, ogni tanto in tanto, mi piace premiare le persone che più mi hanno supportata in questo percorso e che continuano a farlo in modo costante. Quindi il premio è sicuramente rivolto a voi tutte persone che mi commentate tutti i video, sempre che mi commentate i post su Instagram, con i quali anche abbiamo chiacchierato su Instagram, perché si creano poi dei bellissimi rapporti. Ovviamente io vi farò vedere, perché ho scelto di farvi vedere quello che ho deciso di inserire all'interno di questo pacchettino, in modo tale da scrivermi nei commenti se siete interessate. In che modo? Allora, se siete interessate a ricevere questo pacchettino, lasciate un commento e scrivetemi o la vostra mail, oppure il vostro nome Instagram, in modo da poter poi contattare la ragazza che sceglierò e a cui vorrò mandare questo pacchettino. Ovviamente per chi non lo riceverà ne arriveranno altri, sapete che io periodicamente lo faccio, perché mi fa piacere. Io quindi poi vi aspetto nei commenti, vi lascio a questo piccolo riassunto, con delle immagini risalenti. Sto registrando questo video che è venerdì, ho saputo che mio papà e mia mamma mi hanno preso una piccola torta per festeggiare, quindi vi metterò qualche immagine anche del festeggiamento all'interno di questo video, sia per condividerlo con voi, ma anche per tenerlo come ricordo sul canale, perché per me è importante. Vi lascio al video, ci vediamo dopo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo riuniti per festeggiare... Siamo riuniti per festeggiare... Bene ragazze, io sono un po' emozionata, devo dire la verità, non mi piace far troppo la lagna, però vabbè, sono un po' emotiva come persona, penso che l'abbiate capito. Adesso vi faccio vedere il pacchettino. Eccolo qui, è una scatola, e vi faccio vedere i prodotti che ho inserito all'interno di questo pacchetto. Il primo prodotto è questa maschera della Starskin, una maschera idratante e illuminante, non mi dilungo troppo, se no viene una roba lunghissima. Il secondo prodotto che riceverà il o la fortunata è questa crema della Nivea, che è la Naturally Good, con il 99% di ingredienti di origine naturale. Poi vi ho inserito, non so se avete questi problemi, della COSR, che sapete che non so come si pronuncia, sono i cerottini che ho preso, su YesStyle, da mettere sui brufoletti per andarli a seccare, e qui ve ne ho messo un foglio. Poi ho messo all'interno un pochino di campioncini, abbiamo Valentino Borno in Roma, abbiamo della Ziaia, una crema con idratante in mousse, con fattore di protezione 10, una BB cream, il fondotinta sublime di Puro Bio, poi vi ho messo all'interno un ombretto, dell'Essential, e questo qui è Diamond Dust, è un ombretto in polvere, molto carino, così. Poi abbiamo una crema corpo, crema corpo cioccolato e fragola, abbastanza grande, poi un matitone duo della Naiole Ari, vi faccio vedere le colorazioni, all'interno abbiamo il verde, questo verde acqua, e questo grigio, grege direi, dentro del beige, a lunga tenuta, vi ho inserito delle ciglia finte, queste sono quelle a lunghezza, assortita di Primark, con la colla inclusa a ciuffetti, un mascara della Weebo, che ha praticamente le due parti, uno scovolino fatto per le ciglia superiori, e uno fatto per le ciglia inferiori, molto più piccolo, poi abbiamo della Key Best, un rossetto a lunga tenuta, di questa colorazione nude, una palette di Catrice, che avevo doppia, quindi una lacedo a voi, The Dry Rose, vi ho messo anche questa pochettina di essence rosa, per metterci tutti i vostri trucchi, tre pennelli viso, uno per la cipria, uno per il bronzer, eccetera, eccetera, quindi tre pennelloni viso, una crema idratante, leggera, adatta a pelli normali e miste, una maschera notte illuminante, della Grow Giorgios, e in ultimo questa maschera viso, della Theology al Temaccia, che è una maschera viso e collo, e niente ragazzi, io ho preparato questo pacchettino, sperando di poter dare un pizzico, della mia felicità a voi, fatemi sapere appunto nei commenti, chi è interessata a riceverlo, ovviamente sceglierò tra le fedelissime, è inutile negarlo, e anche se per me è ardua la scelta, comunque lasciatemi il vostro Instagram, o la vostra mail, per avvisare la persona, che ha vinto tra virgolette, questo piccolo regalo, e la lascerò poi nei commenti in evidenza, per correttezza nei confronti di tutte le persone, e trasparenza, io vi ringrazio, per aver condiviso con me questo momento, è stupendo, spero che voi continuate, a supportarmi, a seguirmi, io sono veramente contenta, ci vediamo al prossimo video, 10.000 baci per voi, da Federica, la donna qualunque.